Ciao ad Alessandro di 4W d'Italia, cosa abbiamo qui oggi? Abbiamo un bellissimo CJ7 dell'82 con un motore 4.2 6 cilindri in linea, ci è arrivato come più o meno come lo vedete, è una Jeep che è stata restaurata in maniera discutibile e adesso vi farò vedere anche perché. Nel complesso è abbastanza in ordine soprattutto per quanto riguarda il motore per esempio che adesso magari andiamo a vedere insieme. Questo è il classico 4.2 al quale sono state fatte due modifiche molto intelligenti, uno è un carburatore Weber che è una modifica classica che si fa sul 4.2 che evita un sacco di problemi rispetto a quello che è il carburatore di serie e un'altra cosa è uno spinterogeno con bobina integrata che dà un risultato completamente diverso rispetto a quello di serie. Per il resto il motore l'abbiamo fatto girare e grossi interventi non andremo a farne anche perché le cose importanti sono già state fatte. Qui iniziano un po' le magagne, allora questa Jeep è stata rialzata in maniera un po' così come si suol dire pane salame utilizzando dei biscottini più lunghi che non è non è il modo ideale per rialzarla, non fosse altro che fanno perdere tantissimo di stabilità di guida perché durante le curve tendono a flettere e quindi andremo a sostituire questo sistema un po' casareccio con un assetto da due pollici e mezzo della Skyjacker che sicuramente garantirà una funzionalità della ciclistica migliore di quella che è adesso. Oltre andremo a rivedere anche la tiranteria di sterzo che ha parecchi giochi, ball joint, biellette e tutto quello che riguarda la ciclistica anteriore. Ecco un'altra magagna, questa riguarda la carrozzeria, qui probabilmente è stato fatto un lavoro un po' così alla buona e infatti si vede che dopo poco tempo, ci sono già delle screscenze di ruggine che probabilmente è passante, adesso andremo a analizzare la cosa, questa parte non andrebbe stuccata, qui è stata imballata di stucco, dobbiamo ancora un po' capire quanto stucco è stato messo ma rifaremo il lavoro praticamente da capo come si dovrebbe fare senza abbondare con lo stucco e soprattutto evitando quel tipo di problemi. L'interno è sostanzialmente in ordine, salvo vedo un tasto per l'accensione che non è proprio il massimo, non è assolutamente originale, ripristineremo l'accensione con la chiave, la tappezzeria è già abbastanza a posto quindi in questo caso non andremo a fare interventi particolari. Diciamo che appunto nel complesso questo è non proprio un restauro frame off, assolutamente no, è più che altro un restauro conservativo, questa macchina ha bisogno di essere ripresa in mano e rimessa un po' a punto soprattutto per quanto riguarda la carrozzeria, l'assetto. Se hai una Jeep che ha d'epoca, che ha bisogno di cure, questo è il posto giusto, siamo a tua disposizione, puoi contattarci via whatsapp o telefono al 338 73 12 725. Saremmo orgogliosi di averla nella nostra officina.